Terribile tragedia a Napoli per la morte di Martina Sorvillo che aveva solo 24 anni ed era incinta al quarto mese. La giovane nipote di Gennaro e Titina, storici ristoratori di una nota attività commerciale di Santa Chiara, è stata stroncata da un'embolia polmonare. Purtroppo non c'è stato nulla da fare neppure per salvare il feto che era ancora in uno stadio troppo precoce di gestazione per venire alla luce. Sono tantissimi messaggi di parenti e amici che hanno voluto testimoniare il proprio sgomento per la morte di Martina e i cui funerali si sono tenuti ieri.